Buongiorno a tutti ragazzi, qui Riccardo Zago di Investire.biz della sezione Premium Trading con Ichimoku che svolgo settimanalmente ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 con conseguenti video aggiornamenti ed articoli in merito all'indicatore Ichimoku e alle varie operazioni che gestiamo durante la sessione e che impostiamo ora però passiamo subito all'argomento del video in questione allora in questo video voglio innanzitutto analizzare tutte le varie operazioni che abbiamo impostato per questa settimana ad esempio il trade sulla Spagna il Natural Gas che sono appena andato a chiudere in quanto ero soddisfatto del guadagno quindi andiamo subito sui grafici per capire meglio di che cosa stiamo parlando quindi partiamo subito con l'indice spagnolo settimana scorsa avevamo analizzato l'S&P 500 ancora cercando di fare con delle size estremamente ridotte di conseguenza anche il rischio estremamente ridotto un long sull'indice americano uno short scusatemi non un long mi corrego uno short questo non è andato in porto ma durante il corso di questa settimana avevamo intravisto io avevo intravisto questo possibile segnale a rialzo da 8790 a 8800 in quest'area qui il segnale si poteva definire debole in quanto uscivamo da una cumo quindi da una nuvola questa ribassista in più c'era questo lungo Sankus Pan B piatto che solitamente attira a sé il prezzo ma non sempre infatti in questo caso i prezzi sono saliti in maniera esponenziale e siamo andati a fare un ottimo profitto non avevo fatto un articolo preciso per quanto riguardava questo strumento finanziario ma comunque avevo scritto dei commenti su investire.biz ma anche su facebook e sul mio profilo dicendo che c'era un possibile segnale rialzista io l'ho colto molto bene quindi da 8800 siamo andati su molto velocemente il target era posto qui a 9200 però ieri qui intorno a 9.170 9.180 ero soddisfatto del profitto fatto fino ad ora e di conseguenza ho voluto liquidare interamente la mia posizione questo perché? questo perché la stagionalità per il prossimo periodo dà un possibile storno degli indici e di conseguenza io ho voluto sono voluto uscire da questa posizione e comunque mi ritengo molto soddisfatto dell'operazione fatta ora che cosa si può fare? ora per chi vuole rischiare un po' di più si può provare anche uno short io l'ho provato con size estremamente ridotte in quanto trovo molto interessante questo appiattimento della linea in questione quindi della linea rossa anche la linea blu si sta appiattendo molto e il Sanku Span B piatto è ancora qui e di conseguenza queste tre cose potrebbero attirare a sé il prezzo piccolissimo short visti i notevoli pips fate rialzo su questo strumento finanziario le size in questo caso sono ancora più ridotte ma cerchiamo di andare a prendere un piccolo storno dei prezzi lo stop lo metto semplicemente sopra i massimi di questa candela qui per rischiare estremamente poco quindi a 9.160 e vediamo un po' che cosa accadrà come si svilupperà la situazione quindi per questo strumento io direi che abbiamo finito passiamo di conseguenza al natural gas altra operazione estremamente profittevole andiamo a vedere come allora io anche qui è stata rischiosa inizialmente però ho voluto provare in quanto le commodities in generale danno dei buoni spunti con il nostro indicatori di Chimoku quindi i prezzi sono usciti dalla nuvola io non ho fatto altro che entrare long da questo punto da 3.360 mi è andata sono stato anche fortunato ma comunque c'erano tutti i presupposti per provare un rialzo anche se questo lungo Senkus Pan B poteva tirare se il prezzo come vedete neanche questa volta ha funzionato i prezzi hanno iniziato a salire sono saliti molto molto bene avevo un target iniziale a 3.800 per chi mi segue lo sa bene proprio qualche minuto fa però ho deciso di chiudere la posizione siamo venerdì la settimana è conclusa sono molto soddisfatto del profitto fatto e di conseguenza ho chiuso la posizione che cosa fare qui per le persone che non sono ancora entrato che sono ancora in posizione se volete tenere la posizione almeno fino a 3.800 si può tranquillamente fare io però essendo soddisfatto dei profitti pensando che sono entrato a 3.360 ed ora ci troviamo a 3.720 direi che il guadagno è stato molto buono e quindi ho deciso di chiudere interamente la mia posizione se ci spostiamo su un grafico a 4 ore magari si può prendere qualche spunto in più vediamo che i prezzi hanno chiuso al di sotto della Kijun poi però sono tornati di nuovo verso l'alto dando nuova spinta rialzista ho chiuso qui anche perché siamo sui massimi del 7 dicembre ero soddisfatto e quindi ho chiuso che ora non si può fare niente non c'è nessuno spunto da parte del nostro indicatore Cimoku e di conseguenza aspettiamo nuovi sviluppi con l'avvenire della prossima settimana ottimo strumento anche qui poi ovviamente non può andare bene sempre ad esempio su EuroGVP è da un po' di giorni che io personalmente sto cercando di fare un po' di operatività rialzo in quanto anche la stagionalità ci aiuta e ci dice che i prezzi potrebbero andare verso l'alto ci ho provato due volte purtroppo ho preso due stop ma estremamente piccoli in confronto all'escursione di punti che avete visto prima quindi non hanno intaccato per niente il mio conto altro enorme vantaggio della strategia usata con questo indicatore i profitti si lasciano correre per molto tempo invece gli stop ad esempio in questo caso sono estremamente piccoli quindi i rapporti rischio rendimento della strategia in generale sono solitamente estremamente favorevoli ad esempio in questo caso avevo provato un long da questo punto i prezzi avevano rotto a rialzo la Kision e la Tenkan io sono andato a rialzo ho raggiunto il primo target però ho voluto lasciare quindi rischiare un po' di più e ho voluto lasciar correre i prezzi perché avevo un target a 0,87 poi però ieri Draghi ha parlato i prezzi sono scesi avevano raggiunto anche un buon livello 85, 50, 86 ero anche abbastanza soddisfatto però poi i prezzi sono tornati subito indietro ieri poi ne abbiamo parlato a lungo al trading live ma successivamente anche alla sessione di trading con Ichimoku avevo dato come stop 84,20 come vedete questa notte ha raggiunto lo stop i prezzi poi sono ritornati subito indietro oggi vediamo come si comporteranno però vista l'incertezza visto che non rispetta molto bene le medie sarà anche perché ha parlato Draghi ieri e adesso c'è un po' di indecisione sul mercato ma comunque per ora io sto fuori da questo strumento in quanto è abbastanza indeciso e non siamo ancora pronti per una effettiva direzionalità quindi ho preso due stop qui decisamente molto stretti perché entrando a livello di 84,50 84,60 sono andato a chiudere con uno stop a 84,20 confronto alle centinaia di pips che ho fatto di profitto prima diciamo che è un'ottima operatività comunque non può andarti sempre bene come ripeto e io personalmente faccio notare sempre gli errori oppure gli stop loss che andiamo a prendere ulteriore accorgimento invece per quanto riguarda CAD Yen come possiamo vedere qui ieri ne abbiamo parlato al Trading Live questi prezzi si trovano all'interno di questo canale discendente di questo canale ribassista ormai da molto tempo sin dal dicembre del 2014 come potete vedere o comunque se non lo potete definire canale in quanto è un po' sporcato da questa settimana in quanto è uscito da questo canale possiamo tranquillamente capire che questa è una trend line ribassista decisamente importante e di conseguenza ieri al Trading Live abbiamo detto si si può provare uno short da questi livelli con troppo estremamente stretto e size ridotte in quanto siamo in trend rialzista per quanto riguarda il grafico giornaliero ad esempio in forte trend rialzista si può pensare a uno storno dei prezzi di conseguenza proviamo uno short io provo uno short con 50 punti di stop per un eventuale storno dello Yen un eventuale apprezzamento dello Yen e di conseguenza anche questa posizione sta per andare in stop ma o al Trading Live o alla sessione di trading con Ichimoku avevo approfondito anche il discorso dell'Euro Yen nel senso se non fosse andato in porto l'operazione di CAD Yen di conseguenza avrebbe continuato a rialzo come sta facendo adesso si poteva prendere in considerazione un'operazione estremamente semplice e con rapporti di rischio rendimento molto favorevoli andiamo a vederla subito è questa qui dell'Euro Yen su un time frame a 4 ore potevamo vedere ieri ne stavamo proprio parlando che quest'area qui era molto interessante in quanto se lo Yen non si dovesse apprezzare scusatemi si poteva provare un long con un segnale dato dalla nostra linea Kijun come potete vedere questo segnale è stato dato e per ora si è in profitto tutelarsi molto bene comunque lo stop è estremamente stretto come target attenzione all'area di 122 che è estremamente importante quindi anche qui ottimo spunto che va magari a coprirci la possibile perdita del CAD Yen che vi ho fatto vedere precedentemente quindi anche qui ottimo spunto ultimo grafico che volevo farvi notare è quello del caffè andiamo subito a prenderlo eccolo qui cancelliamo un attimo questa zona e andiamo a vedere che cosa sta succedendo i prezzi hanno rotto questa trendline che partiva da giugno come potete vedere è stata rotta i prezzi sono scesi molto velocemente adesso si stanno portando vicino alla seconda trendline che è quella che parte da marzo quindi più importante però che cosa vediamo? vediamo che si sta formando una nuvola discendente nei periodi successivi la Tenkan prima era molto distante di conseguenza dicevo che bisognava fare molta attenzione in quanto quando la Tenkan è molto lontana i prezzi possono o fermarsi o tornare indietro quindi tornare nella direzione opposta quindi a rialzo i prezzi qui si sono solo fermati un po' senza scendere ulteriormente la Tenkan nel frattempo però è recuperato molto molto bene e si sta portando anche al di fuori della nuvola ora che fare qui? qui si può analizzare molto bene questo grafico capendo che c'è una buona operazione short da fare che cosa però andiamo a vedere? andiamo a vedere che in questo punto la linea Kikou è ancora dentro la nuvola l'ultima conferma per entrare al ribasso è che questa linea nera esca dalla nuvola ovviamente chiuda al di fuori della nostra nuvola rialzista il segnale è debole perché esce da una nuvola ascendente però c'è un primo segnale di un primo segnale di ribasso dato anche da questa nuvola che si sta formando discendente aspettiamo anche magari la Kijun che scenda ancora un po' comunque con size ridotte si può già provare perché size ridotte perché vediamo che il segnale è ancora troppo debole per avere una certezza piena della nostra operazione però ci sono già delle buone possibilità quindi io vediamo adesso vedo un attimo se voglio entrare adesso entro con size estremamente ridotte altrimenti aspetto ulteriori conferme come appena spiegato attenzione quando arriva nei prezzi di 13.800 visto che i prezzi potrebbero essere spinti dalla parte opposta dalla trend line ma comunque siamo in un trend estremamente ribassista e prendiamo le giuste precauzioni con questo per oggi ho chiuso vi invito a venire qui su investire.biz siete sempre di più gli utenti sono molto contento anche quelli che scrivono per quanto riguarda i nostri indicatori Ichimoku con questo vi auguro un buon weekend spero che ieri al trading live e successivamente alla sessione di trading con il trading Ichimoku l'abbiate passata bene insomma e di conseguenza io vi aspetto lunedì qui su investire.biz vi auguro un buon fine settimana e un buon trading a tutti